Signor Ciriolo, benvenuti a Delarview CC. Perciò raccontare la tua Stilo Linea. Buongiorno. Sono molto felice di essere qui nel World Congress della Chambra del Commercio. Stilo Linea, sono un rappresentante di questa firma e Stilo Linea è un leader in manufattura di tanti promozionali. Stiamo exportando il 90% dei nostri prodotti in Europa e in altri extraeuropeani come Mexico, Canada, Israel. E i nostri prodotti sono benvenuti all'interno del mondo per causa della alta qualità dei pantoi e della scrittura. abbiamo molti clienti nel mondo europeo come l'Inglanda, la Spagna, la Germania e l'Italia. i nostri prodotti sono circa 10% del prodotto. Ok, grazie per essere qui e per supportare il World Congress con Stilo Linea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.